Si chiamano Ottavio della Greca e Concetta Valletta, i due volontari di Battipaglia, che di fatto si sostituiscono anche all'ente pubblico. I due, marito e moglie, si danno da fare per tenere pulita Piazza San Gregorio, l'area intestante e l'omonima chiesa, ma anche le vie limitrofe. La Piazza San Gregorio è abbastanza sporca e quindi abbiamo volontariamente fatto questa cosa, hanno contribuito anche grazie alle persone che sono nelle vicinanze. Praticamente era abbandonato a se stesso, comunque tutto il vento che ci stava lo portava nelle nostre strade. Poi pure per scendere giù nel nostro quartiere o sederci sulle panchine, vedevamo molto sporco. E poi con mia moglie e Concetta ci siamo organizzati di pulire anche le siepi, di tagliare. Abbiamo trovato un sacco di bottiglie, di vetro, di carte, di siringhe, quindi giustamente poi nei cestini, al di sotto dei cestini, a volte forse l'alba nuova si dimenticava di mettere i cestini e sotto ci stavano un sacco di bustine di animali che facevano cacca e quindi era tutto abbandonato. E quindi fino alla casetta dell'acqua togliamo carte, togliamo quello che riusciamo a pulire, poi le panchine le abbiamo pulite con... Ci siamo portati dei secchi, ci siamo organizzati perché poi la pompa non arrivava abbastanza lontano e ci siamo così poi attrezzati con il sapone, con diverse cose anche davanti alla chiesa, abbiamo portato la pompa e abbiamo fatto questa grande pulizia. Raccomandiamo alle persone di tenerci pulito, noi facciamo tutta la buona volontà di pulire il nostro quartiere nelle vicinanze della chiesa. Anche Concetta, sordomuta, vuole dire la sua e lo fa con la lingua dei segni. Mi piace mantenere ordinato, pulito, di curare e ha molto amore per il quartiere e la zona e ha molta soddisfazione di farlo. Lei ha molta pazienza perché i cani fanno le loro defecazioni, vede tutto disordinato e lei mette a posto e ha pazienza e vuole che il quartiere sia pulito e si sente soddisfatta. Grazie a tutti.